Perché settembre è il mese peggiore dell'anno? Vedete nelle statistiche di Season Axe, evidentemente settembre è quello con l'istogramma rosso più ampio verso il basso rispetto agli altri mesi. Settembre è storicamente, stagionalmente il mese peggiore dell'anno, quello che ha le probabilità più elevate di chiudere con un segno meno rispetto agli altri mesi. Ci sono delle motivazioni anche tecniche della natura dei mercati che al di là del ciclo macroeconomico che si stanno affrontando ci aiutano a capire questa statistica, la ragion d'essere di questa statistica. Prima di ripartire con questa analisi e con questo video vorrevo ringraziarvi ancora una volta per i commenti molto caldi, molto appassionati nel precedente video, quello che ha segnato un po' il mio ritorno dopo la pausa estiva a produrre anche queste chiacchierate finanziarie tra noi e a rimandarvi ovviamente alla lettura dei miei contenuti sul Sole 24 Ore dove vado più in profondità che lascio in descrizione. Davvero grazie per il vostro supporto con commenti, tanti commenti di bentornato che mi hanno davvero fatto piacere leggere. E allora andiamo adesso nel nostro focus di questa giornata, ecco settembre, quindi non ci sono dubbi e stagionalmente il mese peggiore per quanto riguarda Wall Street ma in generale anche per i mercati finanziari un mese difficile, ci sono delle motivazioni tecniche legate alla nostra cara formula della liquidità. Chi non la conosce vada nella sezione tutorial e ci sono dei video in cui spiego appunto come si calcola questa formula, da come deriva eccetera eccetera. La formula della liquidità, quella in questo caso che analizza la liquidità negli Stati Uniti bilanciando quello che fa la banca centrale con quello che accumula il tesoro nel proprio conto conto corrente e quello che sostanzialmente accumulano eventualmente gli operatori finanziari in un conto di deposito presso la Federal Reserve, il River City Repo Market. Mescolando tutti questi ingredienti abbiamo la Net Fed Liquidity e questa formula appunto che vedete è abbastanza cioppi per quanto rialzista dalla 2023 ma ultimamente è abbastanza cioppi e fondamentalmente in questo 2024 dopo i picchi di inizio gennaio non è non è granché risalita ma ci sono delle possibilità, delle prospettive per cui questa formula vada a migliorare in Q4 nel 2024 anche in Q1 del 2025 sarebbe un buon segno per il riscono ovviamente solo uno degli elementi da valutare nel calderone nella matrix dei mercati che contempla tante variabili e per questo motivo è praticamente impossibile fare previsioni soprattutto di breve termine sui mercati finanziari però analizzare questi fattori può aiutare ad avere più consapevolezza ed è quello che cerchiamo tutti i giorni di fare. Tornando al mese di settembre la formula della liquidità è penalizzata perché è un mese fiscale importante negli Stati Uniti entro il 15 settembre molte aziende pagano la tranche di tasse quindi è un mese in cui il conto corrente del tesoro attualmente 733 miliardi si va a rimpolpare e ricordo che la Yellen prevede che per fine Q3 quindi fine settembre questo conto dovrebbe andare intorno agli 850 miliardi e ricordo ancora che quando questo conto aumenta è liquidità drenata sui mercati del riscono perché è liquidità parcheggiata nel conto corrente del tesoro c'è qualcuno che toglie i propri conti aziende cittadine eccetera eccetera e toglie la liquidità dai propri conti le riserve bancarie diminuiscono perché vanno a finire nel conto del tesoro quindi quando questo conto aumenta non è una buona cosa tendenzialmente per i mercati del riscono perché questa liquidità viene parcheggiata per questo motivo oppure il tesoro emette molte obbligazioni e quindi il proprio conto aumenta e quando vengono emesse obbligazioni anche qui è un aggiornaggio di liquidità per l'ambiente riscon e infatti c'è una corsa all'emissione in questo momento di obbligazioni da parte di governi ma anche emittenti corporate lo abbiamo visto recentemente una corsa importante anche perché ci sono le elezioni negli Stati Uniti e magari molti operatori nel dubbio che vinca un presidente faccio un nome a caso Trump le cui politiche potrebbero essere inflazionistiche va ad emettere obbligazioni a questi tassi che sono già molto bassi e scontano già tanti tagli in futuro e quindi nel dubbio si va ad incamerare i nuovi debiti a questi tassi prima dell'incertezza legata alle elezioni tutti questi fattori vanno a depotenziare la liquidità sui mercati finanziari e quindi anche questo spiega perché settembre è un mese particolarmente di siccità finanziaria dal punto di vista della liquidità abbiamo visto la parte fiscale vediamo anche la parte relativa alla reverse repo market altra formula altro elemento della formula complessiva della liquidità qui dobbiamo leggere questa liquidità in senso che quando diminuisce questa liquidità parcheggiata è un effetto positivo per i mercati finanziari quando invece va ad aumentare c'è un drenaggio di liquidità sui mercati finanziari e vediamo che in questo momento sta diminuendo ma sta diminuendo proprio perché molti operatori stanno comprando le obbligazioni stanno portando via questa liquidità dal conto deposto della fede e stanno comprando le obbligazioni con un effetto letto non troppo entusiasmante quasi neutrale sui mercati finanziari però a fine settembre c'è la fine del terzo trimestre dell'anno e ogni volta che c'è una scadenza trimestrale per abbellimento contabile per window dressing dicono gli americani gli operatori finanziari che hanno accesso a questo conto reverse repo market questa sorta di conto di deposto della federal reserve vanno a riparcheggiare una parte della liquidità qui dentro e quindi vediamo ad esempio tutti questi picchi vedete qui siamo a fine giugno secondo trimestre qui siamo a fine marzo primo trimestre qui siamo a fine dicembre del 2023 vedete tutti questi picchi vedete il settembre dell'anno scorso anche qui picco quindi è ragionevole ipotizzare che man mano che ci avviciniamo a fine settembre nell'ultima settimana di settembre qui ci sarà un picco nel reverse repo market potrebbe tornare ad aumentare e quindi verrà drenata ulteriore liquidità per l'effetto window dressing sui mercati finanziari e quindi poi a partire da dall'inizio del nuovo quarto in questo caso ottobre q4 del 2024 poi vedete che la liquidità torna poi riesce da questo conto di deposito che appunto funge così come il conto del tesoro da meccanismi di indirettamente di drenaggio della liquidità dai mercati finanziari in particolare dagli asset di rischio quindi settembre ha sia la parte fiscale e sia la parte relativa come tutti i trimestri la fine del trimestre alla reverse repo market al window dressing a questi due fattori stagionali molto importanti di drenaggio della liquidità quindi in partenza non è uno dei mesi dal punto di vista della liquidità che è uno degli ingranaggi ormai più importanti io insisto molto su questo concetto se ho i miei articoli e questi video eccetera eccetera ormai è un ingranaggio sui mercati finanziari ne parlo anche nella nuova puntata di cripto che parte oggi terza stagione podcast lo trovate su spotify sul sito del sol 24 ore altre principali piattaforme di streaming oggi parlo proprio di questo bitcoin e oro cosa succede se arriva la recessione e anche prospettive della liquidità globale come potrebbero impattare bitcoin ma anche l'oro fisico quindi volevo aggiornarvi semplicemente da questo punto di vista per andare a spiegare alcune motivazioni tecniche quasi idrauliche dei mercati finanziari per cui settembre parte col freno tirato settembre non è il mese migliore dal punto di vista della liquidità però poi questa liquidità potrebbe tornare ad aumentare appunto in q4 almeno questo sempre stagionalmente e anche quest'anno gli esperti si stanno pronunciando in questa direzione vedete anche che dal punto di vista stagionale settembre il mese peggiore però il minimo e lo abbiamo visto anche a ottobre del 2022 e ottobre del 2023 il minimo di periodo il mercato se lo va a fare però nel mese di ottobre e quindi è interessante capire se anche quest'anno avremo questa dinamica c'è settembre mese peggiore dell'anno sulla performance costo di data ottobre mese in cui si fa un minimo e poi all'interno dello stesso mese di ottobre il mercato trova la forza poi per reagire e per impostare le cartucce per un eventuale allungo di fine anno che poi conosciamo stagionalmente come rally di natale ovviamente molto dipenderà per quanto riguarda quest'anno dalle elezioni da tutti i dati macro che arriveranno dall'incertezza degli operatori perché ovviamente queste sono semplicemente delle statistiche che vanno conosciute ma non prese come scienza scolpita sulla pietra soprattutto per la propria operatività sulla quale ovviamente non mi sbilancio perché ognuno ha il proprio percorso ognuno ha il proprio portafoglio il piano di studi e le proprie strategie eccetera eccetera e qui non si parla di operatività bene fatemi sapere cosa ne pensate anche secondo voi la fomo della liquidità poi ripartirà in particolare della seconda parte di ottobre per q4 e condividete l'aspetto appunto stagionale tecnico per cui settembre parte male parte con siccità finanziaria ed è questo uno eventualmente degli elementi che ci permette di parlare di settembre come mese appunto statisticamente peggiore dell'anno alla prossima mi raccomando lasciate un like cerchiamo di arrivare almeno a mille like a video per crescere più rapidamente insieme alla prossima